Andiamo a cominciare. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie per essere qui. Io sono Maso Notarianni, condirettore di Elmensile e direttore di Peace Reporter. Quest'anno il tema dell'incontro nazionale è oltre la guerra, nel senso di andare oltre, non usarla più, farla diventare uno strumento inutile. Su questo tema abbiamo organizzato una serie di incontri. Quello di stasera in particolare a me piacerebbe fosse una cosa molto anche pratica, concreta, che da un lato racconta i costi della guerra, dall'altro ci dà a tutti noi degli strumenti per capire, e poi per far capire fuori di qui, perché il difficile comincia quando usciamo da qui, per far capire che cos'è la guerra, quanto costa la guerra e cosa si potrebbe fare con quei soldi. E anche, se ce la facciamo e se siamo bravi, che cosa fare concretamente per cominciare magari a ridurre, se non proprio abolire, se sembra troppo utopico abolire le spese militari. Abbiamo chiamato grandi esperti di questo settore, io non sono un grande esperto, io modero e basta. Perché mi guardi male Paolo? E dai, su, una volta che ti faccio un compimento. Francesco Vignarca, della Rete Disarmo. Come sapete, la Rete Disarmo, come dice anche il nome, si occupa di ragionare sulla produzione di armi, sulla riconversione, sui percorsi possibili, alternativi alla produzione e all'uso delle armi. Leopoldo Nascia, che è Disbilanciamoci, che fa un lavoro notevole ogni anno e che fa una controfinanziaria, che purtroppo non conoscono tantissimi in Italia, ma se la conoscessero sarebbe più utile, e che ci dice ogni anno, con quei soldi lì, che il governo ha deciso di utilizzare per farla finanziaria, gli stessi soldi. Che cosa si potrebbe fare spendendoli in un modo un po' diverso? E poi c'è Paolo Busoni, storico militare, grande conoscitore di questioni di eserciti e dintorni, esperto di armi. Insomma, speriamo di riuscire a fare una cosa utile questa sera. Davvero speriamo, quello che vorrei è che chi poi esce di qui abbia degli strumenti per andare a sua volta a parlare alla gente e a spiegargli come stanno le cose. Perché io dico sempre che le cose semplici sono quelle più, usiamo un termine un po' vecchio, sovversivo, e che se la gente sapesse davvero come stanno le cose, beh io credo che non solo in Italia ci sarebbero gli indignati come ci sono nel resto dei paesi occidentali e anche nei paesi arabi, ma molto di più. Ciò detto, lascerei la parola per primo a Francesco e mi taccio. Grazie, buonasera a tutti, grazie Maso, grazie a voi dell'invito e della chiacchierata. Spero anch'io che gli obiettivi che hai raccontato adesso per la nostra serata ci siano e quindi spero che alla fine delle nostre prime chiacchierate ci siano anche diverse domande e diversi modi di interazione, perché credo che siano le cose migliori. Non vogliamo fare nessuna lezione, vogliamo discutere insieme qualcosa che poi deve partire da qua, perché se no non è una cosa interessante, non è una cosa sensata. E credo che l'occasione appunto della festa di Emergency sia importante fare un paragone con qualcosa che Emergency ha sempre preso come suo parametro. Se noi vogliamo fare qualcosa bene, la dobbiamo fare professionalmente. Io non vado ad aiutare la gente in giro per il mondo, così portando tre garze e quattro cerotti, vado a portare anche l'eccellenza di cura e questo è stato un tipo di approccio che voi credo conosciate benissimo. Quindi se noi vogliamo veramente fare un discorso di disarmo, di costruzione della pace, di annullamento della guerra, lo dobbiamo costruire. Lo dobbiamo costruire non basandoci solamente su degli slogan o su delle idee generiche, etiche magari, ma dobbiamo farlo in maniera sensata professionale. Una frase che anche Gandhi riprendeva era che racconta che la guerra esiste perché ci sono i professionisti che la preparano, la pace ci sarà quando ci saranno i professionisti che la prepareranno. E qui non si tratta di portare a casa uno stipendio, si tratta di fare le cose, di analizzare le cose in maniera approfondita, in maniera seria e in maniera quindi credibile. Come il discorso appunto della contro finanziaria, non basta dire ah ma si sprecano i soldi, ah li buttano via. Io voglio costruire un'alternativa, voglio essere propositivo e in questa maniera sarò più facilmente ascoltato. Tanto è vero che una cosa che come rete, come studi che facciamo, come anche campagne che tentiamo di portare avanti, noi partiamo anche da un assunto che il disarmo, la riconversione, non sono solo cose giuste dal punto di vista etico ma sono convenienti, che non è una brutta parola. La convenienza anche economica vuol dire prendere le risorse che abbiamo e gestire nel migliore dei modi, fare in modo che quello che abbiamo come persone, come società, sia poi impiegato veramente per il bene delle persone e della società. È importante farlo così perché altrimenti saremo una finta seconda potenza mondiale. Non so se vi ricordate nel 2003 appunto il New York Times aveva raccontato che i pacifisti erano seconda potenza mondiale, perché c'erano tutte le manifestazioni in giro per il mondo. Va bene, è importante, però se noi non riusciamo ad andare oltre quel momento emergenziale della guerra e costruire prima qualcosa, non ce la faremo. Perché la guerra, il conflitto, quando si spara, è solo un pezzo finale di una situazione che è stata costruita e ha radici che arrivano da prima. Se voi, se io vi racconto la storia di un bambino che viene preso, viene portato via da casa sua, viene messo in un baule della macchina, viene, gli viene messa una benda, viene portato lontano da casa sua, viene messo su un burrone, lasciato lì, poi alla fine passa un cane e per caso lo urta e lo butta giù da un burrone, se uno vede solo quest'ultimo pezzo dice povero bambino buttato giù da un burrone da un cane. Ma la colpa vera di quella situazione, scusate l'esempio magari stupido, è di chi il bambino l'ha preso, l'ha portato via, l'ha legato, l'ha imbavagliato e l'ha messo vicino al burrone. Quando, anche in maniera un po' strafottente ed esagerata, viene detto al mondo della pace, alla vigilia o nelle immediate ore di scoppio di una guerra, e voi cosa fareste? Noi dobbiamo stare attenti a non farci portare in questo gioco che diventa solo dialettico e ci vede comunque in parte perdenti, perché non possiamo dimenticarsi quello che è successo prima. Facendo anche finta di non conoscere i 40 anni precedenti della storia politica di Muammar Gheddafi, facendo finta, non era il Dalai Lama, non è che di colpo questo si è messo a sparare sui suoi, quindi facciamo finta che non sappiamo chi è, nel momento in cui però scoppia la rivolta, squillano le trombe e sparano i cannoni, noi non possiamo solo dire, vabbè ma qui sta succedendo qualcosa di sbagliato, dobbiamo intervenire. Dobbiamo domandarci chi fino a ottobre 2010 ha mandato le armi a Gheddafi, per esempio l'Italia, 11.500 fucili e pistole che con tutti i crismi, tutti i timbri, anche dell'ambasciata italiana a Tripoli, sono finite nelle mani della pubblica sicurezza del dittatore libico, perché altrimenti non si capisce, non si capisce come mai lì ci sono delle armi che sparano. Non si capisce perché, ed è il titolo di questa serata, noi in una manovra, lacrime e sangue come quella che è stata provata ieri sera, in un ramo del Parlamento, dobbiamo tagliare su tutto, tagliare sulla scuola, tagliare sul welfare, addirittura il tentativo di togliere le persone di diversibilità perché è gente che non ha mai lavorato, cose di questa natura, però anche abbastanza farneticanti, e vedere dall'altra parte che non si parla, si cerca di far passare sotto silenzio la possibilità di acquisto di 130 caccia bombardieri F-35 di ultima generazione, una generazione un po' zoppa come magari dirà Paolo alla fine perché non funzionano, non volano ancora, per un costo di acquisto stimato in 16 miliardi e un costo di mantenimento in 30 miliardi, che è circa la metà della manovra, non un centesimo diceva bene, la metà della manovra, ecco non possiamo far finta che questa situazione evidente non sia preparata da un sistema, da un sistema di armamento, da un sistema di una strada verso la guerra che poi a un certo punto scoppia, ma che è preparata precedentemente, è preparata per esempio da un conglomerato di produzione militare anche italiano, fin meccanica, che vostra perché è il settimo, settimo ottavo produttore mondiale di armi e al 30% del ministero del tesoro che ne controlla i vertici, fa anche in un anno problematico come l'anno scorso 530 milioni di euro di utile dopo le tasse, 530 milioni di euro di utile dopo le tasse, il dividendo non cambia però perché quello che va remunerato è il capitale di chi non solo lo Stato ci ha investito, questa cosa c'è ma non possiamo far finta o quando lo sappiamo non possiamo più far finta, meglio ancora, che questi 530 milioni di euro di utile vengono anche fatti perché fin meccanica così come altre società dello Stato ha delle controllate all'estero in paradisi fiscali, cioè abbiamo il paradosso che una società dello Stato fa delle società fuori dallo Stato per non pagare le tasse allo Stato da cui è da cui è posseduta. Allora, tutte queste cose contano quando poi alla fine in Iraq, in Afghanistan, in Libia, le armi sparano. E da qui un altro slogan, io magari appunto parlerò per slogan perché non abbiamo troppo tempo, su questo noi ci abbiamo fatto diverse analisi, diversi studi, diversi libri che potete trovare anche fuori, però è importante che passino secondo me questa nuova mentalità, questo nuovo approccio. Le armi non fanno male solo quando sparano, fanno male anche prima, ammazzano anche prima, proprio perché la spesa militare mondiale drena moltissimo di quello che potrebbe essere una spesa pubblica per la sanità, per l'istruzione e quindi se non viene utilizzata per la sanità, per l'istruzione tutto quello che ne consegue fa morti. Anche se un elicottero militare, un aereo militare rimane nell'hangar perché, come succede alle nostre forze armate, non abbiamo la benzina per farlo volare. Per cui se noi vogliamo veramente andare oltre la guerra, come è il titolo di queste giornate, e cercare di fare in modo che non ci siano quei morti, quei conflitti, bisogna ragionare da prima. È più complesso, è più problematico, è più difficile anche da comunicare, è vero, però è necessario, altrimenti la nostra sarà una testimonianza ma non sarà qualcosa di efficace. Anche perché quando andiamo poi a guardare i numeri, quando andiamo a raccontare queste cose, sono talmente cose semplici, stupide e facili che lo potrebbero capire tutti e che quindi sarebbe facile smontare una situazione, un sistema di guerra. Partiamo dalla riconversione, spesso si parla della riconversione dell'industria bellica, un disastro, uno pensa agli ingegneri che devono mettersi lì a capire come fare a sistemare una vecchia linea di produzione che faceva cannoni e fargli fare qualcos'altro. Balla, molta della riconversione è una riconversione di spesa. Siccome il giro delle armi è un giro di produzione magari privata, ma di acquisto pubblico fondamentalmente, le spese militari mondiali sono circa 1600 miliardi di dollari all'anno, sono cresciute del 50% in dieci anni. Abbiamo un decennio adesso, tra pochi giorni festeggeremo, ricorderemo dieci anni dall'attacco alle torri gemelle. Ecco, in questi dieci anni le spese militari mondiali sono cresciute del 50%. I governi avessero deciso di spendere in qualcos'altro, le stesse industrie avrebbero potuto produrre qualcos'altro e sarebbero capaci di farlo, perché quasi tutte le industrie militari hanno anche una componente civile, che tra l'altro è sottoposta meno a crisi cicliche, eccetera. Per cui non si dice chissà che fatica si può fare, si deve fare per riconvertire la fabbrica, fargli fare qualcos'altro, no. Scelgo che quella fabbrica lì, prima si parlava con Maso di Fincantieri, qualche mese fa avrete visto le proteste degli operai, vi ricordo sempre che Fincantieri fa parte di quella stessa azienda, di quello stesso gruppo che fa 530 milioni di euro di utile, però poi deve licenziare 2000 persone perché non abbiamo commesse. Piuttosto gli faccio veramente fare le fotocopie a tutti con 530 milioni di euro di utile, però i miei azionisti non sono contenti. A Fincantieri gli si può far fare delle navi che non siano militari. Perché lo Stato deve riuscire a trovare dei soldi per fare delle navi militari? Anche lì, fregate militari, già il nome secondo me è fregate. Multimissione, classe orizzonte, fatte con la Francia, però le nostre costano 20 milioni di euro in più. Eh ma ci sono problemi sulla filiera, come? Le abbiamo fatte insieme, sono uguali? Perché alla Francia costano di meno? Ecco, facciamo di fare altro. Cerchiamo con la nostra pressione, con le nostre analisi, con il nostro capire approfonditamente quello che succede in questo meccanismo, di chiedere a chi deve decidere, o di metterci a decidere noi, di spendere in altro modo. Se voi aveste un vicino di casa che ha in garage la Ferrari e poi viene da voi a dirvi prestami qualcosa perché non ho i soldi per darla mangiare ai miei figli, non direste no non c'hai i soldi poverino ti aiuto, direste hai speso male i soldi. Quindi anche quando vi vengono a dire non abbiamo più i soldi per fare alcune cose, dobbiamo tagliare, oppure è un disastro la riconversione. Non è vero, stai solo scegliendo di fare altro. È una scelta, dillo esplicitamente e io te la contesto. Questo è un passaggio che pare banale, ma così tanto banale non lo è, perché non sta da nessuna parte su quello che è il dibattito pubblico. E guardate che, come vi dicevo prima, il disarmo sarebbe veramente conveniente. Noi stiamo collaborando da un paio di anni con un'iniziativa che poi vede a Milano una conferenza mondiale che si chiama Science for Peace e abbiamo stimolato e collaborato a una ricerca che ha fatto l'Università Bocconi di Milano, noto centro di disarmisti mi pare, che ha fatto uno studio dell'impatto di una riduzione del 5% delle spese militari nell'area europea e un impatto su un eventuale accorpamento degli eserciti europei. E guardate che i dati della Bocconi dimostrano che non ci sarebbe sommovimenti di piazza perché milioni di persone sono senza lavoro. Per esempio, l'impatto in Italia di una riduzione del genere sarebbe di 300 posti di lavoro persi, solo riducendole. Poi però quei soldi ce li hai e li puoi investire in qualcos'altro. Tanto è vero che diverse ricerche, in particolare fatte negli Stati Uniti, dimostrano come un miliardo di dollari impiegato nella difesa comporta la produzione, diciamo non la produzione ma comporta circa 8.800 posti di lavoro. Gli stessi miliardi di dollari impiegato nella educazione comporterebbe 19.200 posti di lavoro. Nelle industrie delle energie rinnovabili 16.000 posti di lavoro. Il disarmo non è solo giusto ma è anche conveniente. E se noi iniziamo a capire questo meccanismo possiamo anche avere, perdoneranno gli altri per l'analogia militare, un'altra freccia in più nella nostra faretra. Perché non dovremmo solo convincere, cosa che soprattutto in un periodo di crisi è più problematica, la gente dai fai un sacrificio, è una roba giusta, fai un sacrificio, non spendiamo questi soldi e ce li accogliamo tutti. Ma potremmo facilmente con numero e la mano dire non è un sacrificio. È una cosa che è migliore per tutti e in più oltretutto non hai contribuito a costruire un sistema che alimenta guerra e conflitti. Ripeto, i numeri poi sono tanti, li potete trovare dappertutto sulle nostre riviste, sui nostri siti, nelle varie campagne che faremo. Adesso cercheremo ulteriormente di rilanciare in particolare questa campagna sull'F-35, non perché ci sta proprio antipatico l'aereo militare piuttosto che la nave militare, ma perché ci sembra veramente l'esempio massimo, il più grosso programma militare della storia, è cresciuto del 50% dei costi, non si sa se lo si finirà, quando lo si finirà, continuano a crescere le spese, erano stati favoleggiati 10.000 posti di lavoro, a regime saranno tra gli 800 e i 1000, ma è il picco massimo. È proprio il programma esempio classico e quindi quello potrebbe essere già una cosa da fare, nei prossimi giorni quando cercheremo di rilanciarlo, partecipare, diffondere questa iniziativa che è fatta da una larga fetta diciamo del nostro mondo, sul stimolo di rete di disarmo e proprio di campagna sbilanciamoci. Però è l'idea di fondo, al di là della singola campagna o del singolo strumento o del singolo dato, l'idea di fondo è veramente il disarmo non è solo giusto ma è conveniente, che è una questione di scelte. Guardate, l'analogia è il debito. Non ce l'ha mica detto il dottore di fare debito pubblico o che si può non ripagare il debito pubblico. Nella storia ha grandissime potenze, a un certo punto ha detto basta, se è ingiusto non lo pago. L'Islanda ha fatto così col suo debito pubblico che ha mandato in banca rotta, adesso ci sono. L'hanno fatto delle decisioni sbagliate, prese da gente sbagliata e noi lo paghiamo, per esempio. Non ce l'ha mica detto il dottore che dobbiamo spendere dal punto di vista militare. E oltretutto, e qui finisco, sarebbe una scelta anche di efficienza. Anche chi non è disarmista o non violento ma vuole uno strumento militare efficace, diversi militari con cui ho parlato lo confermano, dice che come spendiamo i soldi oltre che tanti, l'Italia quest'anno spenderà circa 24 miliardi di euro per mantenere tutto l'apparato militare, dalle spese dirette della funzione difesa, alle spese per gli armamenti, alle spese per le acquisizioni, alle spese per le missioni all'estero, ma li spendiamo pure male. Quindi gli stessi militari sarebbero più contenti di spenderli meglio. E credo che questa sia una richiesta che noi possiamo chiedere anche a chi, ripeto, non è antimilitarista o disarmista, ma chi semplicemente è un cittadino che così come vuole che la sanità funzioni, la scuola funzioni, eccetera, 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 vuole anche che i soldi più nascosti del bilancio statale, che sono proprio quelli della spesa militare, siano impiegati in maniera quanto meno razionale. Sempre, se si possa considerare la parola razionale e militare, compatibili. Per ora io vi lascio questi spunti. Ovviamente sono a vostra disposizione, poi anche integrati da quello che diranno loro, per approfondire. L'importante è non darsi per vinti e ricordare che se qualcosa succede oggi è stata preparata quantomeno dieci anni prima. Noi abbiamo fatto degli studi che dimostrano come tutti i maggiori conflitti del mondo succedono due o tre anni dopo che i flussi di armamenti nel mondo sono andati in quell'area piuttosto che in quell'altra. Prima dell'invasione dell'Iraq, per due anni, la catena logistica delle navi da trasporto, le cosiddette roll-on, roll-off, cioè quelle su cui possono salire dei mezzi, è stata per due anni bloccata perché tutte le... quel tipo di navi sono state dirottate nel Golfo Persico per organizzare Camp Doha, da cui poi è partita l'invasione. Due anni prima, ci ha messo due anni, non ci ha messo due giorni. Per cui se qualcosa succede oggi è perché è stato preparato prima. Se vogliamo bloccare e andare oltre le guerre del futuro, dobbiamo iniziare oggi a capire cosa sta succedendo in maniera approfondita, in maniera sistemica, scusate la parola magari un po' brutta, e allora sì che potremo essere efficaci nel bloccare i conflitti futuri, nel bloccare le morti, le distruzioni, che poi se no bisogna andare a gestire, voi lo sapete meglio di me, con ospedali, con assistenza. Queste sono le suggestioni che volevo darvi. Grazie Francesco. Io partirei con Leopoldo proprio dal titolo della serata, che non è proprio correttissimo, perché il titolo della serata è un F-35 o un asilo nido. Magari lui ci racconta quanti asili nido si potrebbero fare con un F-35. Credo che se ne possono fare svariate centinaia di asili nido. Io ho l'onere in grado di raccontarvi un po' di numeri, quindi cosa per natura molto noiosa. Per fare questo mi aiuto con qualche diapositiva. Ce la faremo. Comunque sono Leopoldo Nace di Sbilanciamo, ci avevo presentato prima. Per quanto riguarda il mio intervento è un intervento che va a vedere sostanzialmente il quantum, cioè quanto costa la spesa militare. Andrebbe eletto non solo da un punto di vista etico, quindi la spesa ingiusta per provare un principio etico per ognuno di noi, quanto in maniera anche molto asettica. La spesa militare per sua natura è una domanda pubblica. La domanda pubblica si finanzia con le tasse dei contribuenti. Voi siete i contribuenti, io sono un contribuente con le nostre IRPEF, perché poi dopo alla fine uno va a vedere l'IRPEF delle persone fisiche che regge tutta la baracca. E quindi, in una logica di raccontability, io voglio sapere come sono stati spesi i soldi che più della metà di quello guadagno vanno a finire allo Stato. Una parte di questi ci tengo come cittadino, non come pacifista. Sono stati usati bene o male, è corretto prendere gli F35 e fare la collezione di manutenzione di velivoli o li potremmo risparmiare? Perché, come è stato detto prima, è anche conveniente, ma con le manovre che ci sono state in questi, anzi con le manovre, con l'iter tortuoso che ha portato all'ultima manovra di lacrime e sangue, mi sembra tanto conveniente quanto necessario. Altrimenti non è che saltano gli asili nido, cosa che sta già avvenendo, perché già nella città di Roma gli asili nido, dal momento che non ci sono i soldi, la regione a Lazio, ha stabilito che i bambini staranno un po' più stretti perché da 10 metri quadri a bambino si passa a 6 metri quadri a bambino ad agosto e avranno qualche educatore in meno perché il rapporto passa da 1 a 6 e 1 a 7. Calcolato sugli iscritti, insomma, l'idea è che per mantenere gli asili nido li facciamo stare tutti stretti, i bambini, tanto se sono piccoli nemmeno camminano, occupano poco spazio, quindi tutto sommato, questa è la logica. Quindi non ci saranno più gli asili nido, l'ospedale diventerà una clinica privata, il ticket sarà più caro che andare veramente a una clinica privata, non avremo più la scuola pubblica. In questo momento, con la pressione fiscale che c'è, pensare di aggiungere ulteriore pressione fiscale per andare a sfinanziare qualche decina di miliardi di euro a F35 o qualche guerra in angoli remati del mondo, significa sostanzialmente estendere le famiglie. Quindi per questo voglio farvi vedere un po' di numeri per capire grossomodo quant'è questa spesa. Partendo subito sulle stime, queste sono le stime che normalmente si utilizzano per definire la spesa militare, sono tutte stime ufficiali, definizione Nato è la stima che viene inviata dal nostro governo ogni anno alla Nato, 21 miliardi di euro, considerate fino al 2007 questa cifra saliva ogni anno in maniera impressionante perché nella definizione Nato ci sono anche i costi delle pensioni. Dal 2007 il governo italiano ha cambiato la definizione, la Nato allora nella sua tavoletta ha messo una bella stela dicendo attenzione i dati degli italiani non sono più confrontabili da prima, non è scesa la spesa militare, attenzione ha cambiato la definizione e il SIPRI che è un'organizzazione molto seria, riconosciuta a livello internazionale, che utilizza la stessa definizione Nato, da quel momento ha messo le parentesi quadre sul valore dell'Italia perché vedeva che la cifra non era più quella. Emette questa cifra di 27, quasi 28 miliardi di euro, comprensiva però delle spese della protezione civile perché è difficile spiegare a un organismo svedese che la protezione civile è lontana da quella militare però in realtà sono cugine. Definizione funzionale è quella dell'Unione Europea, la spesa pubblica viene divisa per funzioni, ovviamente qui si perde un pezzo di spesa militare perché la spesa magari per fare ricerca e sviluppo, per fare Eurofighter, qua si perde, sono 23 miliardi. Il Ministro della Difesa intermedia 20 miliardi di euro a definizione istituzionale. Però che succede in Italia, come forse anche in altri paesi, il Ministro della Difesa non intermedia tutta la spesa militare ma solo una parte di questa. I motivi sono più disparati nella storia, ci sono anche audizioni alla Camera dove stessi i ministri dicono ma queste spese stavano fuori, stanno nel MAP, nel Ministero delle Attività Produttive e Affari Esteri perché c'erano i pacifisti, poi dopo ci sarebbe stata una clinica troppo aspra, allora abbiamo nascoste. Quindi tranquillamente a luce del sole una parte di spesa militare è scomparsa, cioè una parte consistente di spesa militare che lo stesso Ministro della Difesa non definisce tali perché dice no ma sono spese aggiuntive, il trattamento di ausiliaria, come se noi i militari le pensioni non sono dei costi. Oltretutto tutte queste definizioni manca una cosa, il costo che abbiamo per l'età media al pensionamento è in Italia che ovviamente vanno in pensione relativamente giovani perché non possiamo avere l'esercito di settantenni come dovrebbe essere se avessero la stessa logica degli altri paesi, sarebbe un esercito debole. Ogni volta che vanno in missione all'estero il tempo alla pensione si abbrevia perché esistono una serie di leggi per cui in tempo di guerra il CRQ era accelerato. Proprio questo argomento, pensione e riconoscimento delle spese pensionistiche mi fa venire in mente la riduzione di spese militare che vuole attuare il Governo nell'ultima manovra. Se vi ricordate un paio di settimane fa il Governo ha detto ok davanti a un piatto di maccheroni abbiamo trovato il sistema di far quadrare la finanziaria senza fare contributi di solidarietà. Gli anni di università e l'anno di servizio rileva non sono più riscattabili per avere un anno meno di anzianità. Considerate che fino a 5 anni fa, 6 anni fa c'è un'intera generazione maschile i cui contributi per il servizio rileva sono oneri per lo Stato italiano e anche quella è spesa militare perché tutte le persone vanno in pensione giustamente perché sono stati un anno a fare il servizio rileva e hanno un costo per lo Stato, specialmente se vanno col sistema retributivo. Queste sono cose che noi non vediamo. Su questo sbilanciamoci ha provato a rifare una stima, spese per la difesa 2011, quindi esercizio finanziario 2011, solo bilancio della difesa 20 milioni di euro. Ministero sviluppo economico sostanzialmente sono gli F35 per intenderci, più altre cose. Sono 2 miliardi e rotti di euro. Ministero economia e finanze con vari riconoscimenti e considerate che anche in questa stima, oltre le pensioni, il costo dei pensionamenti anticipati, un'unità media al pensionamento più breve rispetto al resto della popolazione, dovreste anche inserire gli sconti fiscali che hanno le imprese che investono in ricerca sviluppo militare, perché esistono i tax credit, quindi vuol dire che pagano meno tasse e quindi c'è minore introito per lo Stato e quello ha anche un costo nascosto, ma c'è. Missioni militari, un miliardo e mezzo all'anno e oltretutto sono contenti perché avrebbero anche risparmiato totale, oltre 24 milioni di euro. È una stima tutto sommato prudente. Se oltretutto andate a leggere su quello che è stato scritto sui giornali, che ha detto il governo di aver fatto tagli lineari e compagnia, tra il 2010 e il 2011 è leggermente aumentata la spesa militare, non è diminuita. I tagli non ci sono stati nella realtà. Sono tagli che hanno toccato altri ministeri, altri tipi di spese. Un'altra cosa, revisione dei manuali con cui si calcola il prodotto interno lordo. Come sapete l'Italia deve rimanere all'interno dei parametri di Maastricht, altrimenti la Banca Centrale Europea non ci compra più i nostri titoli di Stato. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo sorvegliare e per questo facciamo rinfinanzare le lacrime e sangue attentamente il rapporto deficit PIL, debito pubblico PIL e compagni. Il denominatore è sempre il prodotto interno lordo. Ma le spese militari, le spese che fa lo Stato con le nostre tasse, fanno PIL? Fino ad oggi no, non incidono. Non sono investimenti fissi lordi, gli acquisti di armi da guerra e dei relativi sistemi di supporto. Questa è la situazione ad oggi. Però l'ONU ha cambiato questa definizione. Nel nuovo manuale, quello che definirà il PIL tra qualche anno, le spese per armi offensive, per equipaggiamenti, armi esclusivamente offensive, quindi l'elicottero che può essere usato da trasporto civile o l'auto grigia che serve a trasportare il tenente da una parte all'altra non è una spesa esclusivamente offensiva e quindi era già contabilizzata come PIL. E per equipaggiamenti militari sono investimenti di capitale fisso, quindi più compro F-35 più il paese è capitalizzato e patrimonializzato. È un investimento. Unizioni, bombe e pezzi di ricambio diventano scorte, fanno parte di inventories, quindi più le utilizzo e più li costituiscono le scorte. Immaginate che c'è un effetto positivo sul totale, su questo denominatore che è utile per i paramenti di Mastic, capisco, è un argomento anche molto tecnico e noioso. Però cosa succede? Sono andato a controllare sul sito del braccio statistico della Commissione Europea, Eurostat, cosa scrive sul suo sito, questo è il link, dove c'è l'update, quindi la revisione del sistema nuovo, questo snad del 93, e la revisione del sistema delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea della Contabilità Nazionale, del 93 e del 95. Capitalizzazione delle armi aumenterà il PIL in media di mezzo punto percentuale per ogni paese. Considerate che la storia dei ponti spostati tutti la domenica, che per il governo aumentava la produttività, assolutamente no, aumentava eventualmente il PIL e forse di 0,1%. Quindi per capire gli effetti possono essere molto importanti. Mercati della spesa militare, allora la domanda abbiamo detto che pubblica, però l'offerta è privatissima, più privata che mai, c'è il profitto, non ci sono le tasse dei cittadini. Abbiamo due domande, due offerte, scusatemi. Spesa per sistemi d'arma, che sono gli F35, le multinazionali. Fortissimo impatto della spesa per ricerca e sviluppo, importantissima, bisogna stare in condizione quindi di monopolio, perché non è come le automobili che sono più o meno tutte simili, posso comprare una marca invece di un'altra, mi compro l'F35 e poi dopo devo pagare una manutenzione dell'F35 dal consorzio che l'ha prodotto, non trovo altri concorrenti. Si basa quindi su accordi internazionali, su commesse pubbliche enormi, 18 anni di spesa ingessata per pagare decine di miliardi gli F35, non è poco. C'è una componente molto importante di export e di import, quindi è molto importante fare queste armi e poi dopo bisogna venderle, perché fare un'impresa militare che costruisce carri armati, aerei, navi da guerra, significa un investimento molto forte e ha senso solo se riesco immediatamente a vendere senza tenere le corrazzate in magazzino, altrimenti fallisco, salto per aria. È importantissimo quindi avere una forte competenza sul know-how, quindi sapere cosa andare a comprare, come, e qua i rapporti interpersonali sono decisivi perché sono poche le società che fanno aerei. Considerate che i seggiolini degli aerei militari, quelli che si lanciano, li fa solo uno in tutto il mondo, tanto che se uno ha questa ebrezza di lanciarsi perché è stato abbattuto, come successe tanti anni fa in Iraq a due militari italiani, entra a far parte del club che questa società fa perché si è lanciato da questo seggiolino militare, questo seggiolino del del velivolo, però lo fa solo uno, quindi da quello bisogna andare a comprare e quello fa il prezzo. Mercato di serie B, questo è il mercato più nostrano, non lo chiamo di serie B ma è una forzatura, è un mercato molto interessante, special modo per le imprese italiane perché qua le imprese italiane ce ne stanno, però sono poche perché sono imprese enormi, qua ci sono le piccole imprese, sono i piccoli imprenditori. Spese per richiuraggiamento e infrastrutture, quindi la divisa, significa ristrutturazione di caserme stabili, ricordatevi poi oltretutto queste cose vengono fatte sempre con scarsa trasparenza, non so se vi ricordate lo scandalo del G8 con Anemone, Anemone era un costruttore che aveva il visto per poter andare sulle strutture militari perché non tutti i costruttori vanno bene, ovviamente se io restringo l'offerta il prezzo sale. Caratterizzato da piccole imprese, Anemone era un'impresa poca roba, nazionali, tutto un mercato ultra protetto, il patrimonio immobiliare decisivo e in questo momento una grossa fetta della torta perché col passaggio della fine della guerra fredda, della leva obbligatoria all'esercito da 190 mila effettivi, ci sono un migliaio di, ad oggi, di stabili tra cui molte caserme nei centri abitati, al centro dei centri abitati perché è una nostra tipica italiana di mettere le caserne al centro, che possono essere dismesse e là c'è proprio una privatizzazione, una dismissione dove è fondamentale la trasparenza della procedura. Su questo abbiamo, guarda caso, proprio in questo periodo, l'istituzione di difesa servizi S.p.A., quindi si passa al delitto amministrativo al delitto privato, un milione di euro il capitale sociale che intanto lo Stato ha messo là per vendere anche questi stabili. Vado rapidamente perché per non occupare troppo tempo e abusare anche della vostra pazienza sui numeri. Missioni militari, 8600 persone ad oggi in 33 paesi del mondo, con le rotazioni sono 25.000 persone almeno perché poi le persone devono fare i turni, cambiare. In Afghanistan ne abbiamo la metà, il resto è sparso in altri 32 paesi perché una delle caratteristiche delle nostre missioni internazionali è che quando andiamo via da un paese qualcuno lo lasciamo là. È come avere una grande mappa geografica del mondo con le bandierine e quindi adesso siamo a 33 bandierine, abbiamo missioni sulla crisi di Suez con qualcuno che sta lì, adesso abbiamo anche i soldati a Cifro che stanno sulla linea verde. Spesa Afghanistan in 10 anni, questo è un dato che trovate sul sito della Camera quindi ufficiale, 4 miliardi di euro ci è costato, di costi diretti perché riguardate in quei 4 miliardi di euro l'F35 non c'è, l'usura dell'ammortamento dell'F35 non lo trovate. Il pensionamento anticipato delle persone sono state là non c'è, sono i costi diretti vivi sul momento quindi è ampiamente sottostimato. In Iraq ad oggi noi ci siamo ritirati e abbiamo sempre 70 istruttori per la polizia quindi lasciamo sempre qualcuno. Ha un costo anche questo. Oggi ci siamo stabilizzati a un miliardo e mezzo l'anno. Nel 2007, sembra che abbiamo fatto un grande risparmio, c'è stato anche un partito della coalizione di governo che ha detto no bisogna risparmiare su questo. Nel 2007 erano un miliardo, quindi un risparmio relativo rispetto all'anno precedente. Non so se vi torna sempre in mente, sempre per guardare in un'ottica proprio quasi contabile, i tagli lineari del 10%, qua non c'è un taglio lineare, questo a me sembra un'esplosione della spesa. Sostanzialmente poi perché le facciamo queste missioni internazionali? Perché abbiamo dei rapporti internazionali, dei trattati. E questo è vero, c'è Frattini che è il nostro ministro che deve andare in giro. Però abbiamo anche un altro ministro che si chiama Giulio Tremonti, che anche lui deve andare in giro con i trattati internazionali. Quindi se facciamo bella figura alla riunione della Nato, quando c'è la riunione dell'Ecofin facciamo una pessima figura. Perché abbiamo speso più soldi. E cosa fanno gli altri paesi che stanno dentro la Nato, tra l'altro, dentro di questi accordi internazionali dell'ONU? Loro riducono tranquillamente i tedeschi che domani potrebbero dire, perfetto, volete avere questo governo, quest'altro, non ci fate scegliere a noi ministri? Noi non compriamo più botte. E voi siete morti? Beh, loro 4 miliardi li hanno tolti. Regno Unito, 5 miliardi in 4 anni, ha rinunciato un sacco di aerei. Francia, 5 miliardi in 3 anni. La Francia che in Libia è oltretutto molto attiva. 5 miliardi in 3 anni. In Italia non si riesce a capire. I tagli lineari alla fine non ci stanno. Alla fine della fiera si spende di più, non di meno. una tantum sugli stipendi militari nel 2010 e nel 2011, quest'anno, quando tutto il settore pubblico vede i salari congelati fino al 2015. È un mondo diverso, è un mondo parallelo. Settore degli investimenti. La nostra domanda pubblica. Cosa abbiamo previsto in queste finanziarie? Il rapporto sbilanciamo ci riprende questo dalla nota aggiuntiva sostanzialmente del Ministro della Difesa. In queste finanziarie ci dovremmo avere dal 2008, no? Lacrime e sangue. Perché questa è la ciliegina sulla torta, l'ultima manovra. Però è stata una dopo l'altra un taglio continuo. Ingestamento della spesa pubblica fino al 2026 per alcuni programmi per gli F35. Oneri globali. 18 miliardi, 13 miliardi, 3 miliardi, virgolotto. In euro forse fanno poca scena. Se fossero cifre in lire dovrei cambiare il corpo delle slide perché escono fuori dei numeri scritti per esteso notevoli. Cioè andiamo a comprare dai sommergibili a navi, portaerei. Considerate che sono tutti investimenti che hanno dei costi di gestione altissimi. Quindi comprarli e tenerli fermi, che non è quello che faremo, costerebbe quello che vedete e basta. Se poi, come dovrebbe essere, avremo tutto questo dispiegamento in più di capitale, di aeree e di navi, per mantenerle avremo in automatico un innalzamento dei costi della difesa. Rapidamente, nodi irrisolti alla spesa militare ad oggi non è trasparente. Per sua natura la spesa militare non è trasparente perché quando vado a fare un contratto per un F35 non posso svelare, per anche qualcosa di più banale, non posso svelare segreti militari, per cui la commessa pubblica ha dei margini in cui c'è il torbido e quando c'è il torbido, insomma io personalmente sono una persona scettica, sono malfidato, sa perché sono italiano, sono abituato a leggere giornali e quando c'è il torbido c'è sempre qualcosa sotto, il giotto insegna. Residui di spesa non riescono nemmeno a spendere soldi. Dagli anni 90 questa storia del residuo di spesa, residui passivi, il ministro di difesa accumulava residui passivi perché non riusciva a spendere gli stanziamenti ricevuti, negli anni 90 erano un po' più efficienti, nella rendicontazione della Corte dei Conti nel 2009 ho rivisto la tendenza a risalire. Programmi di acquisto di armamenti, già prima è stato ricordato che noi paghiamo più dei francesi, noi paghiamo normalmente sempre di più, era una politica voluta per anni, comprare le armi su licenza, quindi l'arma, il cannone che fa il tedesco, la ditta tedesca, lo facciamo rifare una ditta italiana, però lo paghiamo il doppio, invece comprava direttamente la Germania. Spese fuori bilancio, così non si piace mai a capire quanto costano, oltre ai privilegi tipici delle caste ovviamente con delle virgolette, nel senso non tutti i militari hanno dei privilegi. Una serie di spezzoni di militari hanno dei benefit che agli occhi del resto dei lavoratori sono oggettivamente delle situazioni di privilegio. Ho fatto un po' per gioco, ipotesi. Facciamo finta di riuscire a risparmiare su 25 miliardi di euro, 24-25 miliardi di euro, 600 milioni, 0,6 miliardi, quindi tutto sommato poca roba, non è un taglio lineare del 10%, sarebbero 2,5 miliardi, molto di meno. Asilo nido, ai comuni in media costa 6.126 euro l'anno, non è una stima ufficiale questo, 100 mila posti in più, quindi non so in quanti asili nido li vogliamo mettere, però 100 mila posti in più non in un metro quadro un bambino, 100 mila posti in più, in begli asili nido, rifiniti bene, non d'oro però insomma. Casa comunale, imporizziamo che per costruire un nuovo alloggio spendiamo 1.500 euro a metro quadro, costo di costruzione, non costo di vendita, media per l'Italia. Faremo 5.600 alloggi in più per 17.000 persone che stanno normali, insomma, in case non troppo piccole. Ho fatto anche l'ipotesi, facciamoci la metropolitana, un 600 milioni di euro, sempre molto meno un taglio lineare. La metropolitana ovviamente ha un costo che varia molto, ho preso un po' dei costi storici di alcune metropolitane realizzate a Torino, la linea realizzata a Torino e altre che sono in progettazione a Roma, tra i 4 e gli 8 chilometri, la metropolitana dipende cosa si trova sotto terra, quante stazioni facciamo, con solo 600 milioni. Oppure, mi adeguo alla corrente che c'è oggi insomma al governo, regaliamo a tutti 10 euro in maniera molto populista, tutti i residenti italiani, quindi gli italiani all'estero non gli do una lira. I residenti che non sono italiani, che sono in Italia, potremo tranquillamente organizzare, andate nelle circostruzioni, negli uffici comunali, dal bambino che ha un mese al vecchietto a 103 anni, vi diamo una carta da 10 euro e ci siamo risparmiati 600 milioni di euro. E' sostanzialmente meno degli F35, molto meno, stiamo parlando di bruscolini. questo è già quello che si potrebbe fare da subito. Altre proposte, facciamo qualcosa di più strutturato, un po' più incisivo, più professionale, come si ricordava prima, c'è la contramanovra di sbilanciamoci che trovate sul sito sbilanciamoci.org. Sostanzialmente il governo ha fatto la sua manovra da 50 miliardi, fatta di tagli, tasse solo per alcuni perché chi li vota non può essere tassato, quindi bisogna tassare solo chi non di vota. Ricordatevi la storia degli anni di università che non si poteva lasci scattare. Facciamo l'ipotesi, riduzione delle spese militari con riduzione del personale a 120 mila unità, quindi la pianta organica sarebbe a 190, non ci arrivano ancora oggi a 190, abbiamo più comandanti che comandati, perché noi abbiamo un esercito dove nessuno porta il fucile per capire dove stanno i privilegi. Portiamoli a 120 mila, non è difficile, un miliardo l'anno risparmiato. Noi compriamo gli F-35, ci teniamo gli Euroget, tanto in definitiva sulle note aggiuntive c'è scritto che nessun paese è in procinto di attaccare l'Italia, quindi non abbiamo più gli occhi per piangere, attaccare un muros. E oltretutto, su questo è un fatto anche di logica. Allora, la finalità della spesa militare è mantenere l'indipendenza e l'integrità di un paese, nel momento in cui noi non siamo più indipendenti perché la Banca Centrale Europea può chiedere il curriculum vitae e nominare il ministro al Presidente del Consiglio per comprarci gli F-35, forse è meglio non comprarci gli F-35, essere indipendenti e dire alla Banca Centrale Europea non c'è bisogno di compri i CCT perché ne abbiamo tolti noi dal mercato parecchio perché abbiamo risparmiato. 14 miliardi in 16 anni, di solo costi diretti, cioè vuol dire che ce li teniamo fermi in questa sala e ce li guardiamo al museo, non li accendiamo perché dopo i costi diventano in mautenzione tremenda, quando pensate agli aerei, la cosa più efficace è pensare al calciomercato, quando un Presidente compra un giocatore di calcio va a chiedere quanto costa 10 milioni lordi, ah vabbè, allora lo compro, ma quanto prende gli stipendi? Vuole un trennale da 3 milioni all'anno netti, e quello dice no, 3 milioni all'anno netti sono 6 milioni lordi all'anno, 6 per 3 è 18, quindi sì, 10 è il costo d'acquisto ma 18 è quello che mi costa ogni anno, questa è la logica. Quindi su questo siamo ampiamente sotto, ritiro da Afghanistan, non di emergency ma del nostro contingente, tranquillamente 700 milioni in meno all'anno, 600 milioni quindi nemmeno ci ritiriamo del tutto dall'Afghanistan, proprio quante cose in più si possono fare. Spaziando un po' di più, facciamo una cosa, le abitazioni, gli uffici, i mille immobili che vogliono dismettere, noi li facciamo vendere, facciamo che li devono dare ai comuni, e i comuni non li possono vendere a loro volta, altrimenti insomma non abbiamo fatto un grosso affare, li devono dare per fare housing sociale, costruire case popolari, considerate molte caserme che c'erano sempre dentro le residenze, le residenze militari, costa poco di metterle a posto. Con mille immobili, tutte in città dove la gente paga 1200-1500 euro di affitto al mese una cosa del genere sarebbe un grosso sollievo per le casse dello Stato e per la politica sociale. Regoliamo l'efficienza della spesa, i residui passivi, se non le spese per un anno, l'anno dopo sono tolti, per legge. Facciamo una cosa, cosa che vorrebbe fare tre monti per tutti i ministeri, magari non per quello da difesa. Mettiamola subito in atto. Prileggi, io mi ricordo anni fa andai a trovare una fine qua a Firenze, alloggiare la casa del soldato, pagare il prezzo di un ostello, ma sta in un albergo a quattro stelle, che sta qua dietro, tra l'altro il centro. Dobbiamo mantenere anche questo, qualche generale in pensione, con pensioni che io non vedrò mai, normalmente nessuno vedrà mai, che magari all'alloggio al centro di una città, e poi va a fare il turista a prezzi da ostello a Nairobi. Non lo trovo giusto questo. Questo potremmo anche pensare. Forse come i piloti dell'Italia devono andare al lavoro guidando loro, come il reputo giusto che sia, anche i generali dovrebbero andare al lavoro con la macchina loro. Lo trovo ignobile che il resto della collettività, con i miei soldi e i vostri, venga pagata l'auto blu e l'autista sta gente. E' assurdo. Trasparenza del segreto di Stato? Più le cose sono trasparenti e meno costano, è provato e meno c'è lavoro per i magistrati. Meno c'è trasparenza e, insomma, come dire, questo è sotto gli occhi di tutti. Per il resto io ho finito, spero di avervi ucciso con troppi numeri. Perché siete stati nei tempi. Grazie. Visto che lui è malfidente, giustamente vi dico un dato che ci sta sulla trasparenza, secondo i dati ufficiali il commercio di armi nel mondo è circa il 2,5% del commercio mondiale complessivo, però è responsabile del 50% della corruzione, per cui forse non sei malfidente per niente. Perché ci sono lavori del Fondo Monetario Internazionale, dove raccontano proprio queste storie, e a questo punto potrei fare anche una provocazione, non faccio il pacifista, le missioni internazionali non le facciamo più in Afghanistan, in Iraq, prendiamo la lista nera dell'Ox, esiste, dei paesi dove si evade il fisco sostanzialmente, andiamo là a mandare i marine, andiamo a prenderci le banche che stanno là, non penso che lo faremo mai. Non credo proprio. Paolo, oltre a raccontarci quello che ci devo raccontare, visto che poi sei anche uno di emergency, con questi soldi in Afghanistan che ci facciamo noi? No, con questi soldi è quello che ci faremmo, cioè nel senso in Afghanistan spendiamo molto ma molto meno per tenere tre ospedali, 29 centri di pronto soccorso, un programma sanitario nelle carceri, tre ospedali di cui uno ha anche la TAC, cioè non stiamo parlando di tende nel mezzo al niente, stiamo parlando di strutture, e si spende per l'Afghanistan, secondo il bilancio di emergency, 4-6 milioni di euro l'anno. Bruscolini, ma neanche la buccia dei bruscolini. Io ci sono stati dei momenti in cui ho visto gente scomparire, nel senso che lui ha scatenato una quantità di numeri che io vedevo qualcuno che si perdeva, anch'io incomincio con i numeri. Allora, tutto quello che avete sentito, i famosi 24-26 miliardi di euro di spesa militare italiana che poi al minuto e all'ora fanno morire, perché sono 50 mila euro al minuto, 3 milioni l'ora, 76 milioni al giorno, cioè una cosa che fa morire, se ci si pensa un attimo, sono in realtà un buon ingresso, nel senso che ci dicono sempre che se non abbiamo almeno 2% del PIL, non del bilancio dello Stato, del prodotto interno lordo impiegato nella difesa, non possiamo far parte della Nato. Ci sono tutta una serie di ineluttabilità, quando si parla di spesa militare, che bisogna far finta di crederci, nel senso, ah no, se non spendete almeno 2% del PIL non potete far parte della Nato. E chi l'ha detto? La Nato. E chi è la Nato? Noi. E allora? Cioè, viene in mente una vecchia sorella della pistola del portodarmi che faceva... Vabbè. Oppure, bisogna comprare le F-35 perché se no ci sono le penali. Scusa, chi le mette le penali? Il consorcio. Il consorcio che c'è? C'è anche un'impresa italiana, cioè è la FIM meccanica, ma è dello Stato. E allora? Cioè, un momento, le penali. Se è mio, è mio. Ma fai parte del consorcio e devi pagare le penali. Piano. Perché quando parlavano di togliere le pensioni di reversibilità, di penali a chi gli veniva tolta la pensione di reversibilità non ha parlato nessuno. Questi signori hanno tutta un'aura d'intorno che ne rende la loro attività assolutamente ineluttabile. Non se ne può fare a meno. Questo si chiama complesso militare industriale. La definizione complesso militare industriale è data a Eisenhower il 17 gennaio 1961, dicendo un complesso militare industriale sta pervanendo la parte democratica nel nostro paese. Lui si chiamava Eisenhower, ha fatto il comandante nella Seconda Guerra Mondiale, il comandante in capo, ha fatto il presidente degli Stati Uniti per due volte e ti inventa la migliore immagine che un pacifista può usare. Il complesso militare industriale. Allora, vediamo un po' cos'è il nostro complesso militare industriale. Non è un'orchestra come quella americana, ma è un bel complessino. Quel signore lì ha scritto questo libro. Ecco, è interessante, è divertente, andrebbe letto una giornata di sole. Ecco, una bella giornata di sole, però va a letto. Questo signore qui invece ha scritto una cosa meravigliosa dove uno si perde nei numeri e poi capisce alla fine che era meglio una giornata di sole. Allora, chi sono i militari? Abbiamo accennato al fatto prima un certo numero di militari, tagliamoli, non tagliamoli. In Italia ci sono 180 mila persone che vestono la difesa, ne vestono la divisa. Sono 9 miliardi e mezzo di euro l'anno di spese, anche perché, siccome vanno in pensione un po' prima, gli ultimi 5 anni li fanno a casa, stipendio quasi pieno, maturando gli scatti di grado. Sono 500 milioni l'anno solo per questa cosa delle pensioni. Poi c'è questo problema che, siccome hanno fatto carriera molti per scatti legislativi, praticamente tutti i vertici, sia per quanto riguarda i sotto ufficiali, sia gli ufficiali, sono ingolfati. Lui diceva, abbiamo un esercito di comandanti, non abbiamo comandati. In realtà, cosa succede? Tipicamente l'italiano, per dare 5 euro di aumento a qualcuno, non gli dai 5 euro, lo lasci sergente. Lo fai sergente maggiore. Poi, alla fine, però, siccome è sergente maggiore, non ti fa più il lavoro da sergente, quindi non hai sergenti e devi assumere nuovi sergenti perché ti mancano i sergenti. È un po' come quando si promuovono tutti, che so, tutti i dirigenti, come è successo nella regione Lazio, che hanno promosso tutti i dirigenti e poi diciamo, ma chi dirigono? È uguale. Il problema è che nel campo dei militari la cosa è un pochino più rischiosa, perché quello dice, eh no, io ora sono maresciallo capo, io non posso mica andare in prima linea. Puoi mica fare un battaglione di marescialli. Prima di tutto perché non riconoscerebbero l'autorità del maresciallo che li comanda. E seconda cosa, perché ormai hanno la pancia, insomma, è una situazione... Hanno pensato anche di fare qualche idea, dice, li passiamo a qualche ministero, all'altro ministero. Hanno detto no. Cioè, ve lo immaginate al Ministero delle Finanze un capo ufficio che ha fatto il maresciallo fino a ieri? Non lo vuole nessuno, non lo vogliono quelli del Ministero delle Finanze. Come quando hanno pensato, beh, li diamo ai vigili del fuoco, hanno detto scusate, o li diamo a fare le guardie, li mandiamo a fare le guardie nei musei perché sono bravi a fare la guardia. No, le abbiamo sentite di tutti i livelli. Nessuno che ha affrontato in realtà il problema. Il problema è questo. Ogni anno abbiamo da fare, perché il nostro sistema della difesa stabilisce 190.000 persone che investono la difesa, noi riusciamo a farle perché oltretutto non è neanche tanto appetibile fare quel lavoro lì. nonostante che ci provino tutti gli anni, i concorsi non vengono coperti completamente, quelli soprattutto per militari di bassa forza. Sono costretti a fare operazioni facciata tipo vivi le forze armate per tre settimane, che è la novità di quest'anno, oppure andare sulle spiagge con delle belle ragazze che danno i pieghevoli arruolati nell'esercito, si chiamano rap camp. Oltretutto hanno anche questo problema, cioè non riescono a coprirlo. Poi c'è tutto il meccanismo del vado in missione, così passo avanti al mio collega e quindi aumento di grado. È tutta una burocrazia sedentaria sostanzialmente, dove una ristrettissima parte, perché i militari all'estero, si diceva prima, sono 25.000. 8 sul campo, 8 appena tornati, 8 che si preparano a partire e quegli altri sono la differenza a 180.000. E quegli altri passano carte, nel senso che oltretutto non è neanche una burocrazia molto efficiente. Io mi ricordo anni fa visitai un posto qui nella periferia di Firenze dove il loro compito era prendere i camion rotti dell'esercito e tenerli su un piazzale per cinque anni, perché così poi dopo tenuti sul piazzale cinque anni, controllandoli quotidianamente, che fossero sul piazzale perché sennò ce li rubavano, li potevano vendere come pezzi di ferro. E questo era un comandante, un vice, non sto scherzando, sembra il generale Buttiglione, se qualcuno se lo ricorda, non ci si ride però, perché questa cosa costa un mucchio di soldi, ma tanti soldi. Poi va bene, ci sono le cosiddette spese di investimento, che sarebbero veramente quello che la difesa deve spendere, il bilancio della difesa si è detto circa 20 miliardi di euro, la spesa militare è il 2% del PIL e quindi sono 24 miliardi, i 4 miliardi vediamo dopo. Dicevo, una volta pagati gli stipendi, c'è da pagare, mangiare, tutte le spisse vive, quelle che si dicevano prima, e poi c'è da comprare le armi. Il mercato delle armi in Italia è sostanzialmente un appannaggio della nostra impresa armiera nazionale, io sono andato sul sito dell'associazione di Confindustria che si occupa delle ditte che producono armi, che si chiama AIAD, e dice nel 2010 la crescita è stata del 3,7%, la crescita delle imprese associate a Confindustria che si occupano di armi. Il fatturato del settore è quindi cresciuto più del resto dell'Italia. Pari a oltre 13 miliardi di euro, 7 miliardi e mezzo dei quali rappresentano il volume d'affari verso l'estero, cioè il 2% delle esportazioni totali del paese. Questo è il presidente dell'AIAD che legge. Il saldo e la bilancia dei pagamenti del settore restano superiori ai 4 miliardi, vuol dire che abbiamo venduto 4 miliardi in più di quello che abbiamo comprato. La forza lavoro impiegata è di 52 mila addetti, quindi l'industria armiera italiana è al quarto posto in Europa, è al settimo nel mondo. va bene. Poi bisogna vedere come però queste imprese, che sono a prevalente controllo statale, o comunque dipendono dallo Stato per le commesse, perché ci può essere anche un'impresa privata, ma poi comunque nel momento in cui lo Stato gli dice non ti compro questo oggetto, lui dice ok, allora metto tutti a cassa integrazione. Bisogna vedere come si comportano. Il caso più eclatante è quello della grande finanziaria delle armi italiane che si chiama Finmeccanica, Finmeccanica, che è il più grosso gruppo industriale che si occupa di queste cose e che trae dal mercato delle armi molti utili. Finmeccanica però possiede anche altre ditte e guarda caso quelle della difesa non si toccano mai, ma ora che la Finmeccanica ha dovuto dismettere una parte del suo apparato nucleare per via del referendum di giugno, in tutta reazione ha deciso di vendersi la breda ferroviaria di Pistoia. Cioè, non si tocca lo zoccolo duro. Ma non perché guadagna, perché è un giochino delle parti, è il cieco toccami del complesso militare e industriale. Sto da vendere un elicottero, ok, facciamo una gara per i nuovi elicotteri, oppure, sto da vendere tre carri armati, e questo è il cieco toccami, quelli saranno sempre in attivo, perché è una spesa completamente improdutiva. E questa è la situazione che abbiamo noi. Le persone che lavorano i 52 mila addetti, alcune sono veramente privilegiate, perché producono roba a così altissima tecnologia, e poi si potrebbe aprire anche una parentesi sull'ala sinistra dell'F35, ma è una battuta che ci siamo fatti prima, che non vengono neanche licenziati. Se si decide di non comprare un'arma, la prima cosa che viene fatta è che la gente va a lavorare lo stesso e non fa nulla. Cioè non gli fanno il contratto tipo comiliano, perché sono fra tutti gli impiegati, fra tutti i dipendenti delle aziende, molto protetti, posseggono loro delle cognizioni tali, posseggono dei livelli di formazione tale che non possono finire rottamati. Si rottama i saldatori della fincantieri, quelli più facili, quelli saldano, ma altri delle imprese della difesa non si rottavano. Allora, proposte. Le proposte di sbilanciamoci sono molto interessanti, sono bellissime. Io sono dell'idea che da un incontro come quello di oggi si deve uscire con delle idee, poi uno dal suo cervello se le elabora. però siccome spesso incontri come questi vengono definiti come è impossibile tagliare 600 milioni, è impossibile tagliare questo, è impossibile tagliare questo, io due ideuzze le butto lì, ma proprio di attività quotidiana. potremmo chiudere per due anni le accademie militari, non fare due anni di fila di concorsi in accademia militare, che non è un grandissimo risparmio immediato, ma siccome quando entri nel meccanismo la carriera è stabilita, significa di fatto avere due anni di pensionità pensionabile in più. perché è chiaro che il ragazzo che entra adesso all'accademia tra quattro anni è sottotenente, poi non può non quindi chiudere l'accademia. A parte abbiamo tre accademie militari più quella della Guardia di Finanza che sono bellissimi posti dove si sta molto bene, si mangia male, però si mangia con pochi soldi, parlo per esperienza personale, che costano un ira di Dio perché se volete andare a fare un po' di turismo andate a Livorno, fate la terrazza a Mascagni e poi seguite il lungomare e vedete che meraviglia è l'accademia navale di Livorno. Se volete andare a Pozzuoli a vedere quell'aeronautica oppure a Modena a vedere il bellissimo palazzo dei duchi che serve per l'accademia militare. Oppure tagliare le missioni all'estero che non sono dell'ONU. Uno dei tagli principali che è stato propagandato dal nostro governo un ministro ha detto riporteremo a casa 2.000 dei nostri soldati. In realtà le aveva gonfiati il giorno prima perché aveva calcolato nel numero dei militari all'estero anche gli equipaggi delle navi che stavano davanti alla Libia. Le ha riportate vicino a Taranto e quindi ha riportato a casa 2.000 soldati. No. Stanno tagliando proprio le missioni dell'ONU. Cioè per aumentare, per diminuire il numero di soldati all'estero ma lasciare invariato il saldo in Afghanistan che non è una missione dell'ONU. Per esempio abbiamo smobilitato quasi completamente la Bosnia quasi completamente il Kosovo che è una missione in interposizione cioè fra i contendenti cioè missioni diciamo così cuscinetto cuscinetto stiamo riducendo il sud del Libano perché così si riportano a casa no allora facciamo solo le missioni ONU solo quelle e già se ne portano a casa 4.500 in un colpo solo poi potremmo anche dire non si fa l'F35 e ce ne freghiamo delle penali proprio lì cioè non te le pago che mi fai? Cioè ci buttano fuori dalla Nato? Ci buttano fuori dal consorzio dell'F35 del quale siamo parte? Si può fare cioè si può fare potremmo anche trovare il modo di vendere rapidamente la Cavour visto che l'abbiamo eh? Apro una parentesi ve lo ricordate il terremoto di Haiti allora il terremoto di Haiti noi abbiamo mandato la nuovissima portaiere Cavour che è costata un'ira di Dio ma il gasolio l'ha pagato direttamente fin meccanica perché mancava il rodaggio sono andati in Brasile hanno preso ufficiale la marina brasiliana e poi li hanno portati ad Haiti per fargli vedere quanto era bello questo oggetto perché stiamo cercando di vendere la portaiere Cavour una uguale non quella ecco vendiamoli quella se ci viene bene si risparmia si risparmia qualche soldo una contabilità per fin meccanica che riguardi veramente i costi e non si mette tutto insieme e si ridivide quando ci fa comodo perché per esempio fin meccanica che è il 30% posseduto dal tesoro ma che è gran parte del capitale flottante posseduto dagli italiani perché è stata privatizzata col metodo dello spezzettamento quindi non lo sapete qualcuno di voi ha dei fondi azionari dentro ci sono azioni fin meccanica quindi siete doppiamente proprietari un po' per la parte tesoro un po' per la parte dei vostri fondi d'investimento fin meccanica mescola e divide continuamente adesso venderà una scatola vuota che aveva comprata in America tre anni fa che si chiamava DRS Technology dal bilancio segreto e non sapremo mai noi azionisti di fin meccanica se in questo acquisto ci abbiamo perso o no perché il bilancio era segreto quindi queste sono sostanzialmente le cose da fare ma la primissima cosa da fare secondo me è prendere la legge 185-90 che è stata fatta in un momento nel quale veramente si aveva un'idea di quello che poteva essere il pericolo rappresentato dalla vendita di armi e toglierci tutti gli emendamenti che sono stati fatti successivamente perché io me la sono stampata nella prima versione e nell'ultima ed è triste vedere che tutte le cose che sull'onda anche dell'indignazione del vedere armi italiane utilizzate da guerriglieri nel vedere situazioni brutte nelle quali veniva presentato il nostro diciamo così il nostro Made in Italy scusate ora la trovo che facevano la legge 185-90 sull'esportazione delle armi probabilmente la migliore legge sull'esportazione delle armi che avevamo nel mondo tutto perché per far guadagnare quelli che si danno le gomitate perché è tutta una spesa completamente improduttiva grazie Paolo come no Francesco voleva aggiungere una cosa su questa legge e poi passerei la pass se c'è una pratica valletta che si offre a girare col microfono quello che ha detto lui sulla 135 è fondamentale perché quello che è stato introdotto nel 2003 con i cambi non è stato subito utilizzato questa licenza globale di progetto che diminuisce i controlli ma la stanno iniziando a usare adesso la prima è stata fatta indovinata un po' sull'F35 però bisogna aggiungere oltre a togliere quelle cose lì bisogna aggiungere un pezzo e questo è fondamentale soprattutto anche per quello che fa Emergency le armi leggere l'Italia ha un ottimo controllo sui sistemi d'arma armi pesanti elicotteri non sulle armi leggeri tanto è vero che noi abbiamo potuto vendere tra il 2009 e il 2010 con tutti i crismi di legge 11.500 fucili tra cui i benelli che vengono usati dai marins americani li abbiamo venduti a Gheddafi col semplice timbro della prefettura di Brescia della prefettura di Brescia il prefetto uno timbrato Beretta ha mandato un anno dopo un anno per la carne che comprate al supermercato sappiamo anche il nome della mucca fra un po' un anno dopo è tornato il timbro dall'ambasciata a Tripoli che ha detto si è vero le abbiamo consegnate ecco tutte queste armi non sono sotto la 195 non hanno gli obblighi di relazionamento tanto è vero che questa vendita non era stata neanche segnalata all'Unione Europea e noi siamo riusciti a scoprirla solo perché i maltesi avevano fatto un errore di numeri avevano detto che avevano esportato 88 milioni al posto che 8 milioni quindi la richiesta è togliere tutti i nuovi orpelli che rendono più difficile leggere i dati della 195 e aggiungere il pezzo delle armi leggere perché guardate che quest'anno all'ONU si discuterà il trattato internazionale sul controllo di armamenti in particolare leggeri e l'Italia non ha ancora un controllo internazionale dei 20 armi leggere e non ha ancora insieme alla Francia chissà come mai una legislazione sui commercianti internazionali i broker internazionali di armi finisco con un altro racconto si parlava prima di segreto di stato a un certo punto qualcuno di voi avrà letto recentemente che delle armi italiane sono finite dai depositi in Sardegna dove non dovevano esserci perché dovevano essere distrutte per conto di un'ordinanza della procura di Torino sono finite dai ribelli libici quindi abbiamo andato di qua e di là nella migliore tradizione di equivicinanza di Andreotena memoria ebbene quelle armi venivano da un traffico verso l'ex Jugoslavia fatto da un trafficante russo questo Alexander Zhukov che era stato preso processato e a un certo punto rilasciato perché in Italia non c'era legislazione sui trafficanti di armi se non fai passare le armi direttamente dall'Italia ecco c'è una prescrizione dell'Unione Europea che impone una legislazione in merito solo l'Italia e solo la Francia non l'hanno fatta mentre per tutto il resto quando l'Europa ci impone di liberalizzare il mercato degli armamenti lo dobbiamo fare subito finora siamo riusciti a bloccarli quelle altre cose che andrebbero fatte e non vengono fatte ecco questa cosa è da fare è una pressione da mettere lì queste richieste che sembrano tecniche devono entrare nella nostra agenda di richieste pacifiste e finisco con una provocazione prendetevi gli emendamenti sono scaricabili dal sito che il partito dei diritti dei militari non sono folle il partito dei diritti militari ha proposto degli emendamenti alla finanziaria che avrei scritto io no all'F35 no ai soldi per i cappellani militari no ai soldi per l'ausiliaria cioè quello che diceva lui sui cinque anni a casa quindi in alcune battaglie possiamo essere di fianco a degli alleati insospettabili che proprio perché solamente i contribuenti vorrebbero che i nostri soldi venissero utilizzati un pochino più razionalmente sono meno di appeal che dire no alla guerra a queste richieste ma secondo me sono molto più efficaci è il momento di diventare efficaci anche in queste cose per cui meno pezzi di 185 e un pezzo in più sulle armi leggere che è quella sì che fa male grazie Francesco io a questo punto lascio la parola a voi se avete domande questioni vi prego solo di esercitare il dono della sintesi estrema mi chiamo Jacopo Nappini mi capita anche di scrivere su qualche blog quindi non sono nuovo a una certa cultura insomma di area politica vicina a queste richieste quindi la domanda che faccio è semplice quali strumenti e quali metodi di lotta politica o sociale possono rendere possibile se non queste richieste almeno delle richieste uguali o simili che vadano nella direzione auspicata quella ovviamente di una riduzione e di una trasparenza dei costi in questo settore perché questi sono dati che io ho trovato sul fatto quotidiano un milione e 300 mila italiani che vivono direttamente o indirettamente di politica quindi l'attività politica in realtà in Italia è una professione è un mestiere abbastanza in alcuni casi anche lucroso e far scoppiare la società civile renderla indipendente nel pensiero nell'organizzazione nelle sue relazioni anche credo che metterebbe in crisi una parte di quella che è la nostra rappresentanza politica ufficiale almeno di questo paese e quindi c'è da chiedersi se effettivamente esiste un'Italia politica disposta a recepire un messaggio così forte e così potente non c'è scusate ma il principio per il quale si va avanti si continua ad andare avanti in una spesa militare così fra l'altro mal fatta perché poi parlando giustamente con i militari scopri che vanno a giro con le divise rattoppate perché poi è anche mal fatta è proprio da una parte vabbè ci sono quelli collusi quelli che ci guadagnano ma non sono poi tantissimi rispetto alla massa di coloro che dovrebbero occuparsi della politica cioè della gestione politica di questo paese c'è una certa ineluttabilità eh no bisogna farlo è sempre qui il eh no bisogna farlo che rende tutto così ineluttabile e indiscutibile cioè spesso spesso per estrema ignoranza ogni tanto anche quelli che sanno perché se uno va a vedersi i verbali della commissione difesa della camera del senato scopri che ci sono dei nostri rappresentanti pubblici che ne sanno e poi comunque il partito non lo sa il partito non manda avanti il partito magari fa solo l'interesse di quel momento se hanno da piazzare qualcuno nel consiglio dell'amministrazione di questa o quell'altra però di fatto c'è intorno alla spesa militare italiana una costante ineluttabilità gli unici che potrebbero lamentarsi perché hanno parte in causa sono i militari ogni tanto vengono tacitati con qualche legge sull'avanzamento dei gradi o l'unatantum o il riordino delle carriere la creazione dei nuovi gradi e queste cose qua e così se li tranquillizzano ma i nostri politici o sono totalmente ignoranti oppure sono totalmente assuefatti a questo è non si può fare meno abbiamo firmato il trattato bisogna comprarli F35 no cioè no e questa è la loro ignoranza questo è il loro vincolo più grosso bravo questa cosa è importante e bisogna anche stanarli quindi io vi faccio subito una proposta anche concreta due mesi fa l'amministratore delegato di Finmeccanica il nuovo amministratore Orsi e il presidente Corguaglini hanno presentato il rapporto di sostenibilità dei Finmeccanica ce l'ho che ci dice quanta carta riciclata quante cose del genere i programmi per i giovani tutte queste cose qua e piccato che è piuttosto piccato durante questa presentazione ha detto perché poi qua non è possibile che noi non possiamo parlare di sostenibilità di responsabilità aziendale anche noi con buona pace di chi ci critica in questo cioè noi fondamentalmente il nostro tavolo o il nostro ambiente possiamo parlare buon diritto siamo pronti al confronto siamo pronti a parlare questa cosa perché non è giusto che noi non ne possiamo parlare di sostenibilità io stupito da queste dichiarazioni due giorni dopo ho mandato una lettera tramite l'ufficio stampa e Finmeccanica con cui abbiamo contatti al presidente amministratore delegato dicendo quando volete quando volete facciamo questo confronto noi non abbiamo problemi anzi siamo contenti di parlare insieme a voi di questa cosa dopo qualche settimana di pressione le vacanze la tua cosa lunga risposta grazie mille di interessamento grazie mille della cosa però purtroppo i nostri vertici aziendali sono talmente impegnati che quindi non possono incontrarvi allora siccome però se volete mandateci qualche domanda allora io le domande le sto scrivendo e le renderemo pubbliche ovviamente e diremo che noi aspettiamo anche un anno anche due anche tre non credo che abbiano un'agenda così lunga non so mica il papa immagino per cui siamo disponibili siamo disponibili ecco quello che poi cercheremo di rilanciare e magari potrete rilanciare voi come organizzazioni ma anche come persone è che noi poi queste domande pubbliche ufficiali le metteremo sul sito e sarebbe bello che arrivassero le stesse domande non solo fatte da me da rete di disarmo ma fatte da varie persone da varie associazioni da vari gruppi per eliminare questa cappa di ineluttabilità che è la cosa peggiore non se ne può parlare non si può dire è una roba per tecnici ormai è già scritto non si discute tutto il resto si discute in questo paese siamo il paese dei 60 milioni di commissari tecnici si potrà discutere anche di cosa spendo dei miei soldi questo è un esempio che vi propongo nelle prossime settimane ci saranno lo faremo circolare perché veramente sono risposte da bambini dell'asilo visto che parliamo di asili e noi dobbiamo evitare questa cosa e spiegare alla gente che noi diamo dei miliardi dei miliardi dei fiori dei miliardi a persone che ragionano come i bambini dell'asilo e non possiamo trovarci siamo troppo impegnati ma di che? questa cappa di inennotabilità è da togliere parlatene girate non per forza raccontate i nostri numeri però queste idee questa cosa si può parlare è tutto discutibile è tutto discutibile gli islandesi hanno detto che non pagano il debito pubblico io posso anche non pagare il programma F35 non c'è mica scritto sulle tavole della legge che Mosè ha portato giù da Sinei posso si sente? si sul discorso proprio dell'efficienza della stessa militare a me quello che basterebbe e sarebbe già un punto di partenza vedere i militari che sono dipendenti pubblici ragionano con le stesse logiche dei dipendenti pubblici dell'amministrazione del Catasto con una disciplina militare e se andate sui manuali di organizzazione aziendale vi insegnano che l'autorità del grado tutte le imprese quelle belle la stessa fin meccanica immagino non lo so non la usano usano l'autorevolezza del dirigente quando uno è costretto a far vedere i gradi per ragionare e quell'altro non deve discutere normalmente non sono imprese multinazionali brillanti che stanno nella top 100 di Fortune ma sono micro imprese informali del terzo mondo quello mi piacerebbe proprio in questo caso che venissero trattate come dipendenti pubblici quindi con la berlina con cui sono stati messi i dipendenti pubblici da tre anni a questa parte e hanno anche tra l'altro la autorità di valutazione cosa paradossale per cui si bisogna valutare se gli autocarri sono stati messi bene a marcire vorrei che ci fosse questa trasparenza che è fondamentale per tutta la spesa pubblica non solo per quella militare per capire e per far spingere in maniera tale che la spesa almeno sia efficiente perché se andiamo a prendere faccio un esempio che volevo bregarvi di numeri la lista delle provvidenze che annualmente il ministro di difesa e non la mette nella funzione di difesa ovviamente perché quella non è funzione di difesa dà alle varie associazioni amiche sue tra cui c'è l'associazione hoteli d'Italia è una lista di quattro pagine e come dice Brunetta fa una certa impressione a vederle online farle vedere a tutti i 5.000 euro che vanno all'associazione tipo dei reduci della guerra di Russia ci sono ancora cose del genere ovviamente c'è anche Lampi che tra l'altro insomma prende parecchi soldi è interessante capire questo mondo parallelo perché là significa proprio nel momento in cui si chiede la clima e sangue a tutti forse là bisogna dare il taglio vedendole tutti la gente a cui manca questa informazione nessuno lo sa nessuno sa che intorno alle spese militari esiste una zona grigia di gente che vive non perché fa gli F-35 per carità ma proprio che vive vive di spese improduttive di attività improduttive su questo una maggiore trasparenza porterebbe automaticamente almeno la consapevolezza va bene le accetto queste spese militari mi piacciono così come sono ma almeno le conosco la gente non conosce assolutamente come vengono spesi male questi soldi solo questo scusatemi io volevo solo aggiungere alcuni elementi per agganciare questo discorso del mantenimento dell'apparato militare industriale ad altri settori dell'economia non mi sembra che se ne sia parlato quindi volevo aggiungere questi due elementi il mantenimento di questo apparato serve è funzionale ad altri settori dell'economia per riassumere i due più importanti che sono probabilmente presenti a tutti sono l'energia le materie prime da una parte e il controllo dei mercati diciamo dall'altro quindi avere un esercito in grado di intervenire in varie zone del pianeta anche per l'Italia ha questa funzione vorrei solo ricordare che ad aprile una delle prime persone ad aver incontrato i capi della rivolta in Libia è stato l'amministratore delegato di Eni scortato dall'esercito italiano ancora prima diciamo che proprio all'inizio del conflitto quindi era ben chiaro da che parte stesse il paese però appunto il discorso è questo che non c'è solo l'economia delle armi ma c'è tutta l'economia che è agganciata a questo quindi la Libia ci vende l'energia e noi vendiamo le armi è questo bilancio che bisognerebbe interrompere secondo me quindi bisogna intervenire anche in questi altri settori ecco questo volevo dire il settore in particolare mi è interessato il discorso dell'energia e delle materie prime appunto in particolare l'energia cioè noi in teoria per andare sul lato pratico bisognava investire anziché diciamo riuscire a convertire il nostro grande successo il successo della società sarebbe quello di convertire un'industria militare o almeno una piccola fetta dell'industria militare in qualche cosa che possa esportare una tecnologia per esempio per sfruttare fonti rinnovabili per penurre energia in Libia bisognava portarci una tecnologia capace di fare questo invece di consegnare le armi questo è questo qui il discorso che voglio affrontare non si possono analizzare per comparti stagni dei vari settori sono tutti interrelati e quindi è importante intervenire su questi settori su questi settori economici questo lo dico perché da volando nel settore della ricerca quello che vedo è che questi governi continuano a investire effettivamente in tecnologie che hanno applicazioni militari ricordo solo che il 10% degli investimenti straordinari in ricerca presentati ad aprile scorso erano assegnati al ministero della difesa la stessa quantità non è assegnata a per esempio le energie rinnovabili anzi erano estremamente trascurate in quell'investimento straordinario ecco solo questo elemento voglio aggiungere allora su questo intanto servirebbe una politica industria in Italia e sappiamo il ministro dell'industria dopo quanto tempo è stato nominato e chi è quindi insomma per quanto riguarda ricerca e sviluppo oltretutto questa è ricerca e sviluppo finanziata dallo Stato in Italia sono più altri settori quelli che tirano ma per quanto riguarda la riconversione guardate che in Italia esistono delle imprese a Roma ce n'è stata una di un centenario di ingegneri vivono di riconversione cioè riconvertono lavorano per il Pentagono insomma hanno quindi clienti militari ma sostanzialmente riconvertono queste tecnologie che loro hanno questo know-how che sviluppano e poi lo riconvertono in cose civili considerate che tutte le applicazioni tutte le applicazioni più importanti delle tecnologie odierne vengono da internet dal GPS ai sensori delle macchine fotografiche vengono da spin-off a militari perché la ricerca è uguale per tutto è lo sviluppo dove viene convogliata la ricerca che viene effettuata a fini militari cioè la ricerca di base per fare il GPS non è di per sé militare e poi l'applicazione è lo sviluppo che butta tutto verso il mondo militare quindi se uno va a vedere la ricerca è stata effettuata può sviluppare cose ottime per essere riconvertite sul mondo civile e se considerate adesso è passato un po' il periodo della guerra fredda ma c'era una cosa interessante quando si parlava non c'era ancora il GPS e tutto si parlava di foto satellitari c'era un geografo che era un geografo inglese al quale serviva una foto di San Francisco allora è andato al pentagono anche a sommità della foto di San Francisco all'epoca le foto satellitari venivano date ai civili sono in alcuni casi opportunamente degradate perché era una tecnologia quindi utilissima considerate che le foto satellitari per quanto riguarda l'ambiente e le coltivazioni sono importantissimi non si potevano utilizzare per fini militari in Italia il caso sarebbe più quello delle frequenze però questo magari ci torniamo dopo questo fotografo al pentagono gli disse no assolutamente è vietato andò all'ambasciata dell'Unione Sovietica e l'Ebel giorno dopo questa fotografia ovviamente perché c'è anche una certa stupidità in queste cose in Italia se considerate lo stesso presidente del Consiglio di oggi mi sembra avesse delle televisioni quelle televisioni il digitale terrestre e tutto esce fuori dalle frequenze militari che vengono sistematicamente liberate altrimenti diventano un fattore di retroguardia e non certo di lancio verso la ricerca per molti casi e questo vale per tutte le servitù e via cantando è che appunto quando ci vengono quello che dice lui è vero è successo così ma la ricerca fatta nel militare ha bloccato per anni o decenni sviluppi che poi sono stati al civile molto migliori quindi quando ci dicono ah ma la ricerca militare poi è servita anche a te benissimo ma se io con la ricerca l'avessi fatta subito al civile avrei raggiunto gli stessi livelli molto prima e con meno soldi quindi è chiaro che se io do soldi infiniti tempo infinito qualcosa di buono salterà più fuori da quella ricerca militare ma la domanda è è stata la più efficiente è stato il modo migliore per farlo magnificano sempre internet che è stata peraltro per 40 anni una cosa schifosissima che non riusciva neanche a passare da una mail quando l'ha presa in mano il CERN e ci ha costruito il World Wide Web è diventata quella cosa per cui adesso con un telefono noi sappiamo cosa succede in tutto il mondo la ricerca di base ha ragione lui però se il problema è che si è fatta come ricerca militare sarà sempre bloccata e quindi avrà sviluppi solo successivamente in maniera meno efficace di quello che avrebbe potuto punto quindi quando si vengono a dire ah ma noi abbiamo fatto è giusto che ci avete dato su non è vero cioè è giusto sì nel senso che qualcosa l'hai ottenuto ma è stato il modo migliore per farlo questa richiesta di efficienza è una delle prime cose e veramente su questo io martello tanto ci porterà degli alleati insperati persone che non verrebbero mai ai nostri cortei mai alle nostre manifestazioni mai alle nostre richieste di natura prettamente pacifista ma che di fronte alle richieste di questo tipo ci possono seguire e a quel punto forse le riusciamo a ottenere questo è fondamentale se vogliamo avere un qualche successo a mio parere è corretto dire che l'Italia è al secondo posto nella produzione di armi leggere e al settimo in quello di armi pesanti questa è la prima domanda la seconda è possibile che ci sia da pagare un ingresso per l'acquisto degli F35 ovvero se non fai parte del club non te li danno punto di domanda l'Italia è al settimo posto come industria militare e l'ottavo sta un po' scendendo su quelle di spesa perché arrivano i paesi tipo India o cose di questo tipo il vero business forosimo è gli aerei in India ricordatelo fra due anni gli aerei in India in realtà non siamo al secondo posto nella produzione di armi leggere siamo un po' più indietro ma siamo al secondo posto nell'esportazione di armi leggere soprattutto va detto quelle più da caccia o di uso civile tra virgolette sportivo riguardo al fatto che gli F35 sì c'è una clausola interna per cui l'F35 può essere venduto solamente a quelli che fanno parte del consorzio tranne per uno di questi paesi del consorzio che può a suo diritto senza dirlo a nessuno degli altri e questo viola una legge italiana nessuno dice ma viola una legge italiana che uno di questi paesi può decidere di vendere a chi vuole facciamo una domanda quale sarà questo paese che può decidere di vendere a chi vuole senza dirlo a nessun altro la Norvegia eh sì la Norvegia chiaramente ecco quindi sì tanto è vero che proprio gli Stati Uniti che sono questo paese hanno tentato all'ultimo momento sapendo che l'F35 era un programma che sta scomparendo addirittura loro hanno detto o me l'ho fatto in due anni o salta tutto ministro della difesa degli Stati Uniti Robert Gates hanno tentato in extremis di cercare di infilare l'F35 nella commessa degli aerei indiani la commessa che invece vedrà nessun aereo statunitense a combattere ci sarà l'EFA e il Rafale francese tanto è vero che i francesi sono stati i primi a bombardare in Libia perché hanno fatto il Rafale l'han venduto solo all'aviazione francese non ne hanno ancora venduto uno fuori dalla Francia e quindi sono stati i primi a attaccare proprio per far vedere che loro erano bravi il Rafale funzionava insomma tutte queste belle cose per cui sì chi fa parte del club lo può comprare ma poi c'è il padrone vero del club che lo può rivendere a chi vuole va bene essendo le 8 meno 10 io andrei anche a chiudere raccomandandomi quello che ho detto all'inizio queste cose raccontatele quando uscite di qui non tenetele per voi perché come dire questo è il primo noi non ci mettiamo sopra nessun segreto e credo che questo sia il primo metodo per cominciare a fare una lotta sociale politica chiamiamola come vogliamo per arrivare a un giorno superare la guerra quello di far sapere di sapere informarsi e informare è uno dei noveri di tutti noi buona serata a tutti grazie